Il primo video dedicato al ripasso, ma soprattutto in questo video vi segnalerò le parole chiave che dovranno guidare il vostro studio, la maggior parte dell'approfondimento legato a queste parole è collegato alle schede che sono caricate in Teams. Date pure un'occhiata al libro, però ripeto in alcuni casi il vostro libro usa un linguaggio più complesso e non semplifica alcune definizioni che vi costringerebbe a impararle a memoria. Il pensiero che cos'è? Il pensiero possiamo definirlo come un'attività cognitiva, cognitiva ricordatevi la parola è legata, l'abbiamo già trovata in stili cognitivi, al conoscere. E' un'attività cognitiva, è una funzione cognitiva, d'accordo? Una funzione cosa vuol dire? L'essere umano ha diverse funzioni, c'è la funzione respiratoria, la funzione circolatoria, la funzione digestiva. Il pensiero ha la funzione di conoscere il mondo, conoscere il mondo, quindi il mondo esterno, ma ricordiamoci anche, noi svolgiamo una conoscenza nei nostri confronti, quindi noi conosciamo anche noi stessi. Un elemento da chiarire nel vostro discorso è sicuramente il fatto che il pensiero in quanto tale sia umano, è difficile parlare di pensiero negli esseri umani e soprattutto non esiste negli animali un pensiero legato al linguaggio. Il linguaggio, diciamo, è l'elemento che permette al pensiero di esplodere. Attraverso il linguaggio noi abbiamo nello stesso momento la creazione dei concetti astratti. Ma ci arriviamo, giusto? Perché abbiamo detto, il pensiero ci permette di risolvere dei problemi. I problemi li hanno gli uomini e li hanno anche gli animali, ma se voi ci pensate, gli uomini sono arrivati ad essere più di 7 miliardi. Cioè la razza umana dimostra, la specie umana dimostra che il pensiero ci mette come la specie animale più potente nella Terra. Ci ha consentito di sopravvivere meglio di tutte le altre specie, di tutte le altre specie, e soprattutto ci ha permesso di dominare anche alcune specie molto più forti fisicamente di noi. Quindi è una funzione che ci aiuta nella sopravvivenza. Come lo fa? Ci permette di risolvere dei problemi. Il problema di sopravvivere, appunto, abbiamo detto, ci fa soprattutto, in alcuni casi, creare il problema che poi andremo a risolvere. Abbiamo detto, dove la vita e essere in una certa situazione per l'animale non è problematico, per l'uomo diventa problematico e automaticamente cerca la soluzione. Com'è che però lo fa? Lo fa, abbiamo detto, attraverso il ragionamento, attraverso il legare i concetti astratti. L'uomo prima risolve, quindi duplica, la realtà attraverso i concetti e nel pensiero, in questa realtà astratta, cerca una soluzione al problema. Una volta che la troverà, o che penserà di averla trovata, la porterà nella realtà intorno. E cambierà il mondo intorno a sé. Abbiamo detto, e questo è già un anticipo che ci porta poi a collegarlo, per esempio, il metodo scientifico è una produzione dell'ingegno umano, del pensiero umano. Attraverso poi il metodo scientifico abbiamo creato tutto il mondo che ci circonda, dalle automobili alle fabbriche, ai computer, agli oggetti in plastica e così via. Tutto il mondo che ci circonda è stato creato attraverso il pensiero e questa attività cognitiva. Abbiamo parlato di immaginazione, questa immaginazione è la capacità appunto di immaginare, quindi di tradurre in concetti, di risolvere, ci aiuta nel risolvere i problemi. Abbiamo detto che c'è una parte riproduttiva, cioè io riproduco, ripeto, un metodo di soluzione che ho già osservato e c'è un metodo produttivo, nel senso che posso elaborare nuove soluzioni che ancora non sono state create. Questi sono sicuramente i concetti principali, la vostra scheda sicuramente e le schede che sono caricate su Teams sono più semplici rispetto al vostro libro, date pure un'occhiata al vostro libro, però, ripeto, in alcuni casi è molto più teorico e il discorso si capisce molto di meno rispetto a quello che vi faccio io. Risolvere i problemi, abbiamo detto, questo viene anche definito problem solving, e immediatamente connesso al discorso del pensiero c'è quello sull'intelligenza. L'intelligenza fa riferimento all'efficacia, quanto è efficace il pensiero nel risolvere i problemi. Riteniamo più intelligente una persona che risolve quel compito in 5 minuti, anziché in 5 ore, o che ci restituisce il nostro telefono riparato, la nostra macchina riparata, in 15 minuti, anziché il giorno dopo. Quindi, capite bene, ha a che fare col tempo, quindi, e con la qualità di quello che si fa. E ovviamente col modo in cui uno stesso problema viene risolto da diverse persone. L'intelligenza, però, è anche, abbiamo detto, un discorso un po' più complesso. Qualcuno ha pensato che l'intelligenza si potesse misurare, no? Come una quantità, come pesiamo il pane, come calcoliamo il liquido, la quantità del liquido, come misuriamo l'altezza, qualcuno ha pensato che l'intelligenza si potesse misurare. Come l'ha fatto? Creando dei test. Questi test erano composti da domande, domande di tipo logico, di tipo logico e di tipo matematico. Più domande, a più domande rispondevi, più il tuo livello di intelligenza veniva valutato alto. Appunto, stiamo parlando di quoziente intellettivo. I test sul quoziente intellettivo esistono anche oggi e sono in un certo modo collegati a questa idea di intelligenza. Fatto sta che col proseguire delle ricerche si è anche affermato il principio che l'intelligenza non sia solo intelligenza logico-matematica, ma che esistano tante altre intelligenze e che non sia così facile misurarle, che queste intelligenze ovviamente convivano nell'essere umano. Cioè non è che vuol dire avere un'intelligenza musicale, voglia dire non avere un'intelligenza logico-matematica. Ognuno di noi ha alcune intelligenze più sviluppate di altre. Ci sono appunto l'intelligenza linguistica, l'intelligenza spaziale, l'intelligenza appunto corporea e così via. Di questo, in questo senso, ci sono nel vostro libro degli esempi. E vi rimando anche alla scheda sulle funzioni del pensiero. La scheda sulle funzioni del pensiero, attraverso anche quei laboratori che abbiamo fatto, vi va a segnalare e ad analizzare un po' più in profondità cosa voglia dire per il pensiero risolvere questi problemi. Cioè cosa facciamo in particolare quando risolviamo un problema. E allora vi ricordo, ci sono quelle funzioni che abbiamo esaminato nei diversi esempi che troviamo nel momento in cui stiamo risolvendo un problema. Quindi acquisire per esempio informazioni, interpretarle, valutare, scegliere e così via. Però, ripeto, i materiali su cui lavorare sono numerosi. Mi è sembrato, ripeto, di aver riassunto le parole chiave fondamentali. Il resto, come vi avevo già detto, è un vostro lavoro di memorizzazione e la capacità poi di muovervi da un argomento all'altro e non rimanere, diciamo, intrappolati nel adesso cosa dico e come esprimo questa cosa che mi sembra di aver capito. D'accordo? Buono studio.